Un sindaco senza stelle e una città senza speranze. E così si spengono i sogni di rianimare Gela. La stessa politica che ha condannato a morte questo martoriato territorio ora prova a rifarsi una verginità grazie all'autolesionismo sfrenato di un Movimento 5 Stelle da premio Oscar per sceneggiature suicide. Il 2016 di Agora, il rotocalco settimanale di Canale 10, si è aperto con i tormenti che attannagliano Gela e che, come sempre, provengono dalla profonda insipienza e mediocrità della nostra politica locale, incapace di risolvere i problemi da essa stessa creati. La frattura insanabile tra la giunta messinese ed il Movimento Grillino che lo ha sostenuto alle elezioni amministrative del maggio scorso stanno poi facendo il resto, riuscendo persino a riabilitare coloro che questa città hanno massacrato senza pietà. Ieri sera ad Agora se n'è parlato, alla presenza delle due figure apicali dell'amministrazione comunale pentastellata o forse ex, ossia il sindaco Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano. Erano stati invitati anche, ma hanno declinato l'invito, due esponenti della base dei 5 Stelle Gelesi che si oppongono all'aggiunta messinese. Non hanno inteso alimentare le polemiche, hanno spiegato rifiutandosi di presenziare ad Agora, salvo poi andare disinvoltamente su Facebook e sugli altri social a dire peste e corna del sindaco e della sua giunta. Un modo davvero bizzarro, indubbiamente, per non fomentare lo scontro. Ma anche e soprattutto questo è il metodo a 5 Stelle. In studio, tra gli ospiti di Agora, anche il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Vincenzo Cirignotta, ed il presidente della Commissione Bilancio, nonché consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra. Ad arricchire come sempre i contenuti di Agora, non è poi mancata la scheda firmata da Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora, potrà farlo attraverso la replica integrale, che andrà in onda domani sera alle ore 21 sui nostri teleschermi, oppure visitando i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it o il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, con nuovi ospiti ed argomenti che interessano Gela e di Gelesi. Grazie a tutti.